Eccellenza, cari sacerdoti, reverenti padri, religiosi e cari laici qui presenti, benvenuti a tutti. Con questo incontro si concludono gli eventi organizzati in occasione della canonizzazione dell'amato cura Broceo. La santità in Lui è riconosciuta e la sua vita proposta a tutti i fideli come esempio sono un himno alla santità di Dio che ha voluto comunicarla all'umanità per mezzo di Gesù Cristo. E' stata la intima avvicinanza allo Spirito Santo a rendere sante ed efficaci le parole che le opere di questo sacerdote povero, umile e donato completamente ai suoi fideli. Il Santo Curato ci ha lasciato una eredità che deve essere ancora scoperta e sfruttata. di Lui, delle sue conferenze, con occasione degli esercizi spirituali, delle sue rette e di altri scritti, c'è tanto ancora da contemplare, studiare ed evitare. La Università e questa Università, e tutte le Università, dovranno anche essere coinvolte a questo proposito, dato che si tratta di una teologia vissuta. La vita di ogni santo è Vangelo vissuto e teologia scritta dallo Spirito Santo. La sua è una teologia vissuta che permette alle generazioni continuare ad approfondire il dono della parola con l'intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose e spirituali. Oggi siamo invitati all'ascolto di un maestro di vita cristiana e sacerdotale, San Giuseppe Gabriele Rosario Grocello. E lo faremo tramite la relazione di qui presenti Padre Ortiz e di Sua Cerenza Monsignor Patron Come lettore del Collegio Sacerdotale Argentino, a nome dei Vescovi che lo seguono e dei sacerdoti che lo compongono, ringrazio di cuore le autorità della Pontificia Università Gregoriana dell'accoglienza di tutto quanto hanno fatto perché questo incontro sia possibile. Bene, daremo inizio allora a questo atto, innanzitutto ascoltando il Padre Guillermo Ortiz, il Padre Guillermo Ortiz Gesuita, è originario della Valle del Cura Grocero, possiamo dire così. Lui è nato vicinissimo, diciamo, alla attuale villa del Cura Grocero in Córdoba, Argentina. Ha ottenuto la licenza in Teologia all'Università del Salvador, di Buenos Aires, e la licenza in Comunicazione Sociale alla Pontificia dell'Università Gregoriana di Roma. Ha ottenuto anche la specializzazione di informazione e produzione di media all'Università Andrés Bello di Caracas, Venezuela. Il Padre Ortiz conosce anche il Papa Francesco da vicino. Dalla 1977, l'allora sacerdote Jorge Mario Bergoglio, copriva la carica di Superiore Provinciale della Compagnia di Gesù, quando il Padre Guillermo decise di entrare nella compagnia. Pertanto, autorizzò l'ingresso senz'altro. Si capisce? Ecco il giovane Guillermo nella compagnia. Più tardi, il Padre Bergoglio, nominato rettore del Collegio Massimo, vivene anche formatore e dopo anche parroco della parrocchia, dove il Padre Ortiz si formò come sacerdote vivendo in suono iniziato. Il Padre Guillermo, dal 2007, lavora nella Radio Vaticana come responsabile dei programmi in lingua espagnola. Il tema che svolgerà adesso sarà il Santo Prete, l'incarnazione del modelo di pastore proposto da Papa Francesco. Dei sette nuovi santos, entendo che il Santo Cura Grocero inspira a Francisco di modo particolare. Quando mi dijeron questo, i padri di preparare, io ho usato il titolo che Francesco proponì a Grocero come modello di pastore. Abbiamo in la messa con il Padre Federico Lombardi e mi dice, è al revés. Primero è Grocero. Il Santo Cura Grocero inspira il modello di pastore che propone il Papa. Una sintesi podría ser, José Gabriel del Rosario Grocero, misionero misericordioso, estrechamente cercano, en cuerpo y alma al pueblo, especialmente a los más heridos, recorrió su extensa parroquia, lomo de mula, hasta allagarse. Le salieron callos sangrantes in las posaderas di tanto andar in la mula per arrivare a tutti e cada uno di sus felices. Fundò su progetto parroquial in il Encuentro con Gesù di los ejercicios espirituali ignaciato. e questo è abbastanza interessante considerarlo, no? E così edificò una comunità che lavorò unida per il ben espiritual e material della zona. Primer Santo Argentino, sì, nació in Santa Rosa del Río Primero, Argentina, en 1840, murió en Villa del Tránsito, ciego y leproso, en 1914, beatificado en septiembre del 13 y canonizado el 16 de octubre del 16 por Papa Francisco. Siguiendo esta idea di che Brochero inspira a Francisco e non è al revés che Francisco elige un modello per presentare a los demás. Que barbarità, no? Per eso è stato un grande come Federico Lombardi è un compañero di comunità che sape molto più. Per esempio, Brochero è un'immagine di essere di essere di sì di la autoreferenzialità per andare al otro in la periferia. Que nos pide Francisco? Non quedarse in la cueva, in la sacristia, in la secretaria parroquial, una iglesia ensalida millonera come un hospital di campagna, Brochero deixa il campo su familia, se forma la ciudad nel seminario del Loreto bajo la direzione de los jesuitas, no sufre nosotros, ahí practicò los ejercicios espirituales algo molto importante per lui. En 1869 asume il curato di San Alberto di 4336 km2. Contava con poco más de 10.000 habitantes che vivivano in lugares distanti sin caminos, sin escuelas, desperdigati con las sierras grandes che tienen il Champaqui che tiene 2.800 m formava parte della parroquia del cura Brochero, il Champaqui e il largo valle quindi desde il Champaqui passando per lo che noi chiamiamo sierras, sono montagnes e piedra soprattutto del lado del Brochero una zona molto bella molto hermosa qui vedo gente che conosce esa zona e e poi a lo largo del rio come siguendo un rio se passa por una zona semi-arida però anche molto fértil al costo del rio fino fino arrivare al desierto che sono los llanos della Rioja il ha sido un camino molto largo molto largo con gente molto desperdigata come un esempio io ho ho celebrato sempre in la zona la Semana Santa e in la casa di mio aboglio allì nel límite dove il cello arrivava per il lato della Rioja mi llevava a mio mio in l'auto in l'automobile a invitar a la gente e mi mi dice mira se me rompio il auto così che conseglie un caballo e bueno hacía mucho tiempo che non andava caballo e dije bueno voy a salir no voy a galopar voy a ir de a poquito hasta que el cuerpo se me acomode y bueno entre casa y casa y muchísima distancia habré invitado un 25% 30% de la gente en 3 días dije no si voy de espacio no voy a llegar nunca empecé a galopar el primer día ya no podía más me dorían todos los huesos me dorían todo el cuerpo y dije bueno no pero siempre es el primer día el segundo día yo voy a estar mejor y voy a poder estar mejor llegó el jueves y no sé cómo podría estar de pie para celebrar la misa porque lo haría todo el cuarto es decir un trabajo difícil en este salir en este salir de sí del egoísmo de la comodidad para ir al otro brochero se llegó hasta llagarse se llegó hasta llagarse en una cercanía y proximidad que nos refiere directamente la encarnación del verbo uno más de los nuestros entre los miles y miles de hombres que surgen nos refiere directamente a la inculturación del evangelio y estamos hablando del 1800 para seguir poniendo ejemplos hay una discusión por ejemplo de este hacerse llegarse a gente de compartir con ellos de tan cercano hay una discusión sobre el contagio de la lepra pero de cualquier modo él murió leproso y muchas veces había tomado mate con uno llamado o de apellido punes que era un leproso de la zona pero el testimonio más fuerte de este llegarse hasta llegarse son los callos sangrantes en las asentaderas y en las asentaderas no es lo mismo que en otro lugar porque mucha parla bueno él tenía que estar sentado y viajar en la luna sentado cierto era una cosa constante un dolor constante le salieron por atar en la luna malacar buscando a todos y también al más alejado y solo de los feliles de su parlo que no dejó de visitar ninguno aunque fuera uno solo o dos que estuvieran ahí lejos a mí me voy acordando de cosas que pueden ayudar en soto que vendría a ser la pampa la parte llana ya sobre la sierra pero del otro lado la pampa de anchala por donde atravesaron allá hay una de las hermanitas esclavas que atravesaron camino a lomo de mula de córdoba al tránsito estaba en soto porque parece que había un médico y fue una de las veces que brochero se fue a cortar los callos sangrantes porque cada tanto le hacían una limpieza y entonces mientras brochero está en un quirófano en el Soto que aún hoy es un pueblito muy pobre llega un muchacho a caballo y le dicen ¿a qué venís? hay un enfermo hay un enfermo que quiere que brochero lo visite andate ya porque a brochero le están limpiando cortando los callos si no va a joder si te ve se va a dar cuenta y se va a ir con vos brochero sale le pregunta qué haces vos no pasaba como pasaba no si no le pudo mentir le confiesa que hay un enfermo brochero se sube conmigo así como está y sale visitar un llegarse hasta llagarse y como las llagas se las sacó la mula o se las sacó él sobre la mula la mula es muy importante y está ese ejemplo que es uno de los más conocidos cuando le avisan que hay un enfermo pero del otro lado del río y hay creciente y puede decir la hermana magdalena los que conocen la zona no sé si alguno levanta la mano alguno que conoce esa zona no hace falta que yo explique que las crecientes matan gente y si está la creciente nadie va a cruzar que hizo brochero algunos dicen que le tapó los ojos a la mula con un trapo yo no me lo dijeron brochero la metió a la mula en la creciente y se agarró de la cola de la mula y pasó al otro lado para atender cerca diciendo guay de que el diablo me va a robar una alma brochero cercano a la gente dice Francisco para ver hasta qué punto es significativo este sacerdote para el modelo de pastor que propone Francisco el corazón de dios tiene un sitio preferencial para los pobres tanto que hasta el mismo se hizo pobre está citando segunda con 18 9 pobre esto no es una palabra el lenguaje hablando de palabras el lenguaje de brochero es de palabras sencillas aquellas de los mismos paisanos como las palabras de jesús en el evangelio pero la verdadera gramática del lenguaje evangélico de fe del cura brochero ¿saben cuál es? la pobreza y la caridad la pobreza y la caridad esa es su credencial con la gente no solamente esto que nos ha recordado el Papa Francisco de Francisco que le decía a los franciscanos compañeros salgan a predicar y bueno se hace falta con palabras no es no es lo mismo que un sacerdote se baje de un automóvil con aire acondicionado en un desierto donde la gente sufre el frío el calor que el que va tiene el cuero la piel curtida con el mismo sol con el mismo frío con la misma tierra y más pobre que el que lo recibe más pobre que el que lo recibe lo llevo esto solamente como para que lo pensemos lo recemos lo contemplemos una de credenciales de lo cheiro es la pobreza como llegó tanto a la gente porque que hizo este cura si hablaba el lenguaje sencillo de la gente pero era uno más entre la gente nuevamente la encarnación Jesús o pero dicen que resplandecía en él un atractivo particular atraía llamaba la atención la gente no era otra belleza y nosotros podemos imaginar entender que tenía que ver con esta pobreza y con esta caridad y una ternura exquisita exquisita con cada uno otra cosa que llama la atención con Francisco Papa podrá haber miles pero si está con vos está con vos y después estará con el otro de al lado pero si está con vos está con vos otra cosa que llama la atención y forma parte ya que el padre contó este secreto de que fue el que me recibió en la compañía ya de aquella vez yo me sentí escuchado y no siempre uno se siente escuchado por el otro y no es poco cuando hablamos de fe y de cristiano y de sacerdote hay que buscar por ese lado por el lado de su pobreza vivir a continuidad por supuesto pero la pobreza del evangelio y la caridad del evangelio esta capacidad de entrar tan dentro del corazón de la gente porque por algo que le voy a explicar después que no es moco de pavo diría brochero porque para poder proponer lo que propuso brochero había que tener una capacidad de tocar el corazón de la gente muy grande como aquella vez que en un solo sermón se consiguió 600 hombres que fueran con su cabalgadura a buscar desde a ver si Magdalena me ayuda cuánto habrá de Antaustina a Vida del Tránsito para traer todos los gigantes para la casa de ejercicio hay que tener hay que tener capacidades con convicción padrecitos para lograr una cosa así como anécdota hablando de la pobreza ya estamos en otra dimensión cómo sería de pobre que cuando necesitaban algo para una obra espantaba una platita ¿saben qué hacían? ripaba la nula no sé qué pasaba si lo que la ganaba se la volvían se la regalaban de nuevo pero la lectura sería y acá gracias a que la gente entiende el español puedo ser un poquito puedo alargarme y acercarme no tanto y acercarme a lo que a lo que el mismo brochero dice pero ya me estás diciendo no tanto y lo que tienen que se eche dice acá un diario porque este es el libro de la faceta periodística del cura brochero reinando en su curato la ignorancia indiferencia borrachera robo lleno de celo emprendió la obra de evangelizarlo por medio de los ejercicios espirituales y no teniendo en su curato cómo darlos se propuso llevarlos a la ciudad de Córdoba a sus peligreses para que allí pudieran recibirlos a los ejercicios pero acá viene el tema cómo arrastrar a esta clase de gente que no conocía ni de qué se trataba cómo conducir un número de hombres y señoras a treinta lenguas por entre caminos asperísimos muy sencillamente dejémoslo contar a él y acá habla brochero estamos en el 800 dice rochero preguntaba yo cuál era el hombre más condenado más borracho y ladrón de la comarca enseguida le escribía una cartita diciéndole que pensaba pasar dos días en su casa decir misa predicar y confesar y que por tanto avisase a sus amigos que pucha yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar porque si iba a una casa buena esos pícaros no se iban a acercar fíjense dice bueno ahora voy de misión y donde voy están siempre la gente pudiente como decía mi abuela que tiene en la casa una piecita más que tiene baño un poco más digno y entonces ofrecen al cura para atenderlo bien eso pasa hasta el día de hoy brochero no brochero decía cuáles son los peores pero como pecadores cuál es el más condenado tú sabes esa palabra en ese tiempo para ir ahí y para que esa gente se sintieran ellos los protagonistas y porque si él se iba a la casa de los ricos o de los buenos esos pobres y pecadores no lo han dado sigue la historia acá y después podemos pasar a otro punto ahí nomás les decía que me había costeado que me había acercado para hacerles bien y que quería enseñarles el modo de salvarse y que todos estaban condenados yo hago así porque brochero haría así no porque ustedes están todos salvados pero bueno todos estaban condenados decía brochero ¿eh? y que bien podían ver ellos que yo no tenía ningún interés porque ¿qué podía importarse de a mí que se los llevasen todos los diablos? si yo no los conozco a ustedes decía brochero no no yo no los conozco a ustedes ¿qué me importa a mí que se los lleven todos los diablos? sino con Jesús Cristo fíjense cuántos rengoncitos tenemos acá de predicación de brochero y cómo brochero es directo y ya dice tanto sigue la cosa un poquito y aquí sacaba el santo Cristo a hijuna y se me echaban a llorar que yo no sé cómo Dios me ponía esas cosas en el pico y esto tiene relación con aquello más importante que vamos a pasar ahora enseguida que me parece que es el corazón de la cuestión del cura brochero la acción de Dios la acción del Espíritu lo que ha vivido este pueblo esta comunidad de un brochero es la obra de Dios la acción del Espíritu era un sacerdote que iba en nombre de Cristo buscando el bien de la gente y el Espíritu se movía ahí yo les decía bueno este sermón no vale nada mañana va a ser lo bueno avisen a todas sus relaciones ahí nomás empezaba a confesar un día que di la comunión a mucha de esa gente se me acerca una mujer y me dice padre pulano me parece que se llamaba Guillermo o algo así hace una hora que ha comungado y ya está borracho como una cabra hay una dije yo busqué al gaucho atento busqué al gaucho y le dije pero hombre ¿cómo ha sido esto? ah padre me contestó hacía veinte años que no complicaba y de puro gusto me emborrachaba todavía falta lo más importante el padre acá me encontró yo también tengo el mío tiene siete y el suyo tiene diez ya no entonces este a ver a ver ustedes entienden que él lo foca lo atendió en la confesión este hombre vivió la confesión este hombre sintió el perdón de Dios volvió a traer de puro contento se volvió a encontrar fue una excusa para volverse a encontrar con el culo y seguro que el culo fue muchas veces más porque después a todos estos ellos llevó a los ejercicios espirituales no me voy a demorar mucho en este tema de los pobres tan benditos tan trajinados tan ideologizados pero los invito a repasar del 197 en adelante varios puntitos que no podemos pasar de largo de Evangelii Gaudium donde se habla de que ese acercarse al pobre es acercarse para descubrir la riqueza que tiene y todo lo que vale no es una caridad que le estoy dando algo a alguien porque yo soy más no Dios me da a mí y algo muy grande a través de esa persona ¿no? acá el padre me va y simplemente simplemente leo una parte del 165 de Evangelii Gaudium dice por eso quiero una iglesia pobre para los pobres ellos tienen mucho que enseñarnos además de participar del census fiden a un temazo en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente conocen al Cristo sufriente anoten esto anoten esto conocen al Cristo sufriente ese que yo cura voy a evangelizar o no se han visto su fiden paso paso sigo paso tres hojas sobre este tema vamos a retomarlo un poquito en esto paso a lo que para mí es el corazón de brochero la médula de su vida y de su apostolar hay un salto el general de los dominicos presidió la misa de inicio de la congregación general de nosotros los jesuitas porque la tradición es que el funeral del general es presidido por el general de los dominicos y Nicolás el anterior general ya tenemos el nuevo dice bueno no es mi funeral pero presidió la misa y él usó una frase que me ha gustado mucho y que sin duda se va a retomar probar la audacia de lo improbable en la acción del espíritu para ser fieles a la acción del espíritu probar la audacia de lo improbable acá está todo el tema de la creatividad acá está todo decir bueno pero que vamos a hacer si parece que no se puede hacer absolutamente nada que siempre fue así mirar la gente que tenemos no acá se trata de la audacia de lo improbable algo que parece imposible el tema es grochero se hizo uno más de los paisanos de su parroquia porque él era de otro lado y cruzó la sierra y los buscó para proponerles el encuentro con Jesús de los ejercicios espirituales ignacianos para el cambio la transformación del corazón de la familia de la sociedad para la conversión del pueblo llevaba un remedio si en el camino se había enterado que el curano estaba enfermo y de pronto pasaba otro lo tenía o que se yo llevaba una cosa pero él llevaba lo más grande grochero no le ofrecía no sé qué cosa la gente no solamente la gente no sentía ese trato este que me viene porque también pasaban vendedores ese trato no del consumidor vendedor del negociante pensuario porque él era pero así pobre él él se estaba ofreciendo lo más grande lo más grande que nosotros ahora acá en una universidad no podemos medir estaba ofreciendo el encuentro con Cristo con Jesús el coraje apostólico más audaz del cura brochero no está en soportar los callos sangrantes la audacia de lo improbable su enorme valentía su enorme coraje está en proponer hacer a la gente los ejercicios espirituales no me loco quieran que me loqué que soy un loco no sé no sé cómo decirlo es una cosa preguntemos acá hay padres padres jesuitas la hermana que ha sido superior a una casa de ejercicios espirituales ustedes saben que difícil proponer ocho días que son diez porque ellos lo hacían en serio el primero había empezado el día anterior y al día siguiente el octavo se terminaba eran diez días su apuesta es a la acción de Dios en el corazón humano incluso me animo a decir como jesuita que ni siquiera era los ejercicios espirituales porque los ejercicios espirituales si los entendemos son para preparar y disponer el alma para la acción de Dios es Dios el que actúa entonces acá voy a rapidito referirme al gaucho seco que es un bandolero que andaba por ahí en 1887 lo cuenta Martínez Subiría Hugo un gaucho malo más malo que yo capitán de bandolero famoso por sus robos y crímenes la escasa policía de la región prefería hacer la vista gorda antes que librar de batalla campana de la que hubiera salido infaliblemente derrotada el señor rochero se empeñó en hacer tomar los ejercicios al gaucho seco está loco así es una locura no es normal es sobrenatural es una cosa brillante y fue a buscarlo a su escondrijo como quien busca un puma en su cubil lo dejaban los baqueanos muchos kilómetros antes porque no se animaban a llegar hasta ahí de entrada nomás le dijo que iba a curarle la lepra de que estaba cubierta su alma y gaucho seco oyó estupefacto semejantes palabras y tuvo curiosidad de asistir a unas ceremonias tan extrañas de las cuales hacía diez años se arruinaba tanto en el país una mañana del frío mes de agosto llegó al tránsito montado en una mula saina guiado por el cura que montaba su invariable mula mala cara y seguido a cierta distancia por otro jinete que le guardaba las espaldas no sea que el cura lo deja entregar la policía vamos a ver dijo el gaucho seco apeándose a la puerta de la casa de casillo cómo se me va a curar la letra de edad le sencilló entregó la mano a su departeniente y llevando en brazos el apero que sería su cama durante ocho días siguió a brochero que le hizo cruzar los dos patios y palmeándole la espalda le indicó una habitación donde dormiría con una veintena de hombres de su lalla de su lalla no eran buenos como nosotros somos todos antes más de 700 paisanos habían llegado ya para esa tanda todos miraban no sin recelo al gaucho seco este nosotros somos malos pero este ha matado a varios que pasaba arrogante entre ellos haciendo sonar las espuelas y arrastrando a las hinchas de su silla de montar cubiertas de ricos pechos solo se oía el ruido de aquellos pasos y de aquellas escuelas un silencio imponente dominaba la extrañísima reunión patatón vamos a ver el milagro dijo para sí con sorna arrojando sobre la tierra empedernida el copioso apero sonó entre tanto una campanilla agitada por la mano de un viejo y todos silenciosamente lo siguieron sin saber adónde y seco detrás de él entraron en la capilla oscura no obstante ser de día alumbrada escasamente por algunas velas de cebo y la mariposilla del sagrario un sacerdote de negra sotana empezó a hablar jesuita aseguró nadie más que le hablaba el silencio era fuerte y comprimía hasta el latido de la ciencia del patio llegaba un olor a carne asada el señor borrachero le preparaba el primer almuerzo en fogatas al aire libre terminó la plática aburrido jesuita y hubo rezos y cantos misericordia señor misericordia de mí que tanta misericordia tan mal de correspondiente el caucho seco asistió sin aburrir seco sin comprender ni los cantos ni los rezos ni las pláticas eran del jesuita sonó otra vez la campana y salieron a almorzar siempre el mismo silencio impresionante a lo sumo el ruido de un cuchillo uno de esos largos y de esos cuchillos de los cauchos que portaban después tomaron mate alrededor de ganajes de barro cocido en que se iban durmiendo rojas brazas de alga roja y allá un chuseco vencido por las ganas de tomar mate se allegó a un grupo y aceptó que los convidaran sin atreverse a pronunciar palabras tan imperioso el callar de la noche de un hombre de nuevo la campana y el moverse en pilas de la concurrencia y el acudir a la capilla y de nuevo la plática y los rezos y los calos al anochecer una fantástica procesión debía producir la oración los rezos los cantos y enseguida lo inauguró la cosa más extraña del mundo por turno no se asusten pues no caían todos a la vez entraban a la capilla cerraban las puertas se apagaba hasta la luz con la luz del santísimo y aquellos hombres recios barudos se azotaban naturalmente las espaldas desnudas con su pierna y después traizadas ochocientos entre tanto nosotros ahora de la capilla aguardaban excitados con la granizada de azotes cuyo ruido llenaba el palo el gaucho seco penetró con sus compañeros pero permaneció de pie en un rincón torvo y enfurecido de haberse dejado llevar hasta aquella mojiganga después de nuevo a las piezas desnudas y frías donde calentaron los estómagos vacíos con algunos mates y se acostaron vestidos sobre sus aceros en la tierra porque no había camas ni las necesitaban personajes como ellos y al arno otra vez la otra vez la campana y las mismas distribuciones y el mismo silencio más que las pláticas de los dos jesuitas que sucesivamente les hablaban llamaban la atención del gaucho seco las coplas que se cantaban y su sentido había comenzado a recibir perdón ya mi alma sus culpas confiesa canto ¿te acuerdan? mil veces me pesan tanta maldad perdón oh Dios niño perdón y piedad ¿sería cierto? ¿sería posible que Dios no perdonara a él? ¿sería verdad que otros muchos tan cargados como él de crímenes habían encontrado misericordia al pie del crucifijo? el tercer día el gaucho seco se azotó con furia a los recios lomos y el al sexto día se arrodilló suelo salvo a los pies de un misionero que lo envolvió en el poncho de lana para que otros no lo vieron llorar cayeron mi curita las escamas de la lepra hoy es el día de mi nacimiento al otro año el gaucho seco volvió a los ejercicios trayendo a 14 paisanos más que querían también hacer el maravilloso experimento de nacer de nuevo esto no es normal esto no es natural esto es Dios este es el espíritu esta es la acción de Dios Bronchero solamente preparaba fue a su casa rompió el traste para que la gente viniera hizo toda la preparación para que Dios actuara y que pasó una consecuencia la consecuencia es que esta gente ahora vieron y ya estoy terminando la consecuencia vieron que hablamos en Aparecida y en Evandería es tan importante la religiosidad popular la actividad popular y empieza a hablarse de mística popular la experiencia de Dios que puede tener en cualquier ser humano la experiencia de Dios que tiene más la gente común y sencilla que no puede expresar a veces la fórmula del cafecito pero que tiene una experiencia inespable de Dios tan profunda como cualquier místico de los más grandes místicos eso es lo que pasó en Bronchero Bronchero no es Bronchero Bronchero es también este hombre que representa a tantos argentinos que no tienen otra cosa que a Dios para vivir y que tienen una experiencia mística de Dios y como parte de esta experiencia ya casi lo último que llega como una consecuencia la casa de ejercicios espirituales capillas colegios caminos no lo sé eso Bronchero Bronchero también se armando con las bolas sotanas primero para pisar el barro para los ladrillos pero un montón de maltratar pero yo también fue con su bola malacar con los otros 599 hicieron los 600 que trajeron gigantes y como mensaje ahora yo le digo a la gente de allá hablando por la radio que podemos salir a nosotros que nos quieren convencer que no valemos nada que nos tratan mal que nos quitan la tierra que nos roban las cosas que nos explotan a la gente de Algarza se hacen trabajar en el campo esos otros campos y no les pagan lo que corresponde la gente tiene la tentación de creer que no somos nada que no valemos nada y de pronto vemos que uno de los nuestros uno de los nuestros llegó acá a Roma para nosotros hizo una noce cardinal del frontispicio de San Pedro la muna del puro brochero con el puro brochero que vuelva que vuelva a nuestra patria y a nuestra tierra y nos diga vos también podés así como yo pude también vos podés ¿por qué? porque vos también sos hijo de Dios y entre todos somos hermanos y lo permitimos al puro brochero patrón que de los alcaldes de la Galicia de la Galicia de la Galicia bueno continuamos con la relazione del monseñor Jorge Carlos Patrón nel 1988 anche viene a Roma per ottenere il grado di licenza in teología spirituale e psicología presso questa università la Pontificia Università de Lugiana Torna in Diocesi dove parroco educatore presso il seminario portavoce del Vescovo e anche rettore del seminario maggiore di Giucatano mentre dal 2002 al 2008 è presidente dell'organizzazione dei seminari messicali quindi anche eletto presidente dell'organizzazione dei seminari latino-americani da Oslam è rieletto nel 2006 e in carica sino al 2009 il 15 ottubre del 2009 Papa veneletto lo nomina Vescovo e dopo ecco consacrato il giorno 15 di quell'anno dicembre di quell'anno e il 12 settembre del 2013 Papa Francesco lo nomina segretario nella congregazione per il clero con delega per i seminari e lo eleva alla dignità di Arcivesco il suo tema di questa relazione che ascolteremo adesso sarà i due amori nel cuore di un pastore e vorrei ringraziare a tutti specialmente al padre Vettore al padre Angelo ai luci sacerdoti del collegio argentino per questo invito a condividere una breve riflessione sulla vita sacerdotale nel giorno della canonizzazione di José Gabriel di Rosario Brocero il prego Brocero vorrei partire da una semplice constatazione prendendo spunto dal titolo di questo di questo nostro incontro i due amori nel cuore di un pastore penso che questo ci svele il segreto della santità di Brocero che non consiste tanto in cose straordinarie ma nel fatto che egli fuori un semplice prego vivendo il ministero apostolico in quel duplice volto dell'amore a cui ogni sacerdote è chiamato Dio e l'uomo i due amori infatti intrecciati tra loro rappresentano la sostanza del ministero presiderale e mai devono essere separati il prete è un discopolo guardato e amato affascinato da Cristo che lascia le sue reti e si mette alla sequela del maestro ma in questo cammino egli scopre che il Signore non chiama per invitarci alla fuga del mondo o a una religiosità intimista privata e astratta quanto più tolto per inviarci ai fratelli come segno della tenerenza tenerezza dell'amore di Dio un buon pastore mentre si scopre amato e chiamato al ministero orienta la sua vita nella stessa direzione di Cristo facendone quindi una proesistenza cioè una vita spesa e offerta per gli altri il prete che davvero è configurato a Cristo alimenta come lui la relazione intima con il Dio Padre e insieme non ha dove posare il capo percorrendo villaggi e città per portare a tutti la buona notizia e curare le ferite con l'olio della misericordia divina il decreto conciliare prevedere un ordine afferma non a caso che il sacerdote è preso tra gli uomini e in favore degli uomini stessi preso cioè afferrato da Cristo che è sorgente fondamento della sua chiamata all'ordine sacro ma costituito in favore di cioè mandato nel mondo e innesso agli uomini a esercitare un ministero di annuncio di accompagnamento di compassione e di misericordia due amori dunque Dio e l'uomo senza il primo la nostra opera diventa ben presto arida inefficace egoistica senza il secondo tradiamo la missione che ci ha fidato dimenticandoci che ci dà vera gloria a Dio solo quando si serve e siamo il fratello ecco mi sembra che la prima cosa vera della figura del procero è questa era un semplice frete un vero frete innamorato di Dio e dell'uomo raccolto nel colloquio interiore con il Signore e profondamente commosso di nasi alle felice dell'uomo capace di raccolgere tutto per portarlo ad abitare insieme e sentire nelle sue vicere la sua spinta di uscire del tempio per percorrere i luoghi della vita quotidiana dove Dio si svela nel volto dei piccoli e poveri dell'errore ultimi della terra come ci ha detto meno di ieri la santità del procero è inizialmente questa e lui fu come ha affermato Papa Francesco un pastore lo dorava e si fece povero tra i poveri che lottò sempre per stare vicino a Dio e alla gente che fece e continua a fare tanto bene come carezza di Dio al nostro popolo sofferenza tre punti e una conclusione il primo punto un parroco con l'esperienza di Dio la vita di un santo diventa per noi memoria di speranza è memoria della nostra vocazione che abbiamo ricevuto nel pastesimo quando siamo stati immersi nella vita di Cristo e uniti con l'olio del Spirito Santo diventando Tempio del Signore e segno vivente della sua redenzione è speranza perché questa vocazione dura per tutta la vita è l'inquietudine del cuore che ci portiamo dentro la meta cui aneliamo e che desideriamo la pienezza verso cui camminiamo in un altro senso possiamo dire che è bello per noi sacerdoti contemplare l'opera di Dio nella vita sacerdotale gaucho perché possiamo sempre fare memoria della nostra vocazione insieme coltivare e vivere la speranza della meta che ci attende Rosario Brocero ha vissuto in santità e gioia il suo essere sacerdote di Ocesano e la sua missione di parroco Giovanni Paolo II parlando con il servo di Dio il carriere del Pironio alta figura sacerdotale esemplare della terra argentina ebbe a dire che Brocero era come il curato di arte argentino io vorrei dire che è veramente il curato di arte latinoamericano Brocero è nato nel 1840 è stato ordinato nel 1866 morì il 26 di marzo di gennaio del 1914 vecchio è vissuto perciò in un tempo non facile in cui ancora la nazione argentina si è stato formato dopo anni di guerra e di lote intestinali chiama l'amico a un esercizio di memoria scrivendo ricorderai come potevo dire di me stesso che sarei stato sempre così energico come il cavallo che è morto galopato abbiamo qui qualcosa che rivela il cuore di Brocero il che fu sacerdote di locesano e parroco e adesso amarrato sta quasi per esse constretto a fermare il suo galopo ricorda tutto il cammino percorso il tempo della sua formazione la ordinazione sacerdotaria i primi passi del ministerio la prima parrocchia e il lavoro fatto con le sue gioie e le sue sofferenze e scrive sarei stato sempre energico quel sempre rivela ciò che era la sua vita una energica e intretica donazione apostolica nella quale sapeva cercare il bene del suo popolo e amare teneramente con cuore il padre e il fratello la poche suo lavoro apostolico trovava alimento nella cura della vita in tendone i vescovi latinoamericani alla parecida hanno affermato che il popolo di Dio sente il bisogno dei sacerdoti di secoli che hanno una profonda esperienza di Dio situati nel cuore del buon pastore doceli ai suggerimenti dello spirito che si nutrono della parola di Dio della qualità e della priera i parrocchiani che hanno avuto un vocero con i pastori hanno potuto soddisfare questa esigenza attraverso la vita del loro padre che si è presentato loro come un uomo di Dio e mi era affermato poco a francetto una visita di Gesù stesso a ogni famiglia portava con sé l'immagine della Vergine il libro della preghiera con la parola di Dio il necessario per celebrare la Mesa quotidiana mi invitavano a bere i rummati chiacchieravano e il proceno parlava loro in un modo che tutti comprendevano perché gli usciva del cuore dalla fede e dell'amore che motiva per Gesù nei suoi lunghi viaggi fatti cavalcando una mola era sempre accompagnato della parola del preghiano e del rosario aveva una profonda di emozione eucaristica che lo ha portato a vivere con gioia e suo appartenere al Signore il suo ministerio è stato vissuto anche attraverso un teneo di filiale rapporto con Maria che amava chiamare la mia purissima e il sapeva cultivare la vita interiore e l'intimità vivendo un dialogo permanente con il Signore e sentendo di essere un suo instrumento del servizio del Reino secondo punto un pastore in uscita questa intimità orante ha prodotto una vasta rete di relazioni che egli ha costruito con il suo tratto solo e semplice animato sempre della simpatia nessuna vera intimità infatti è possibile senza alterità proprio perché cresceva come un intimo amico di Dio egli sapeva anche crescere come amico di Dio i legami familiari di amici del cammino le famiglie della sua parrocchia la fratellanza con i sacerdoti che amava chiamare amici la capacità di dialogo con le autorità civile la sensibilità che aveva nell'estate con quelli che erano emarginati testimoniano che il procero nel suo ministero vive un'attenta cura delle relazioni se dovessimo ripercorrere la memoria del suo vissuto sacerdotale la lista sarebbe lunga perché il procero ha realizzato molte opere e con cuore di pastore ha creato la comunità dove si trova tuttavia vorrei sottolineare il desiderio più profondo che ha animato tutta la sua opera pastorale il desiderio di portare tutti all'infanzo con il Signore Egli aveva come certezza pastorale quella che Papa Francesco ha espresso nelle Vaglie di Gaudium citando Benedetto XII all'inizio di essere cristiano non c'è una decisione etica o una gran idea bensì l'incontro con un avvenimento con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e conciò l'attivazione decisiva Egli ha diretto tutti i suoi sforzi per promuovere una pastorale dell'incontro e su questo va proiettato il ministerio costruendo la comunità ed edificando ponti di relazioni ma questo amore pastorale esgorgava sempre da quello che lo faceva entrare fuori fuori un colloquio con Dio anzi fu un grande predicatore dell'esercizio spirituale naziale mentre i folli di cristiani attraversavano lunghe strade per raggiungere la città di Córdoba e successivamente Egli costruì una vera e propria casa di esercizi così nella parola del Papa Francesco José Gabriel Procero incentrò le sue azioni pastorale sulla preghiera appena giunse alla sua parroquia cominciò a portare un uomini e doni e assaporare l'amore tanto grande del cuore di Gesù e poi tutto culminava con il perdono di Dio nella confessione con un sacerdote pieno di carità e di misericordia in questo modo è stato un prete missionario che mosso dal carità pastorale si prese cura del grece a lui affidato andando a cercare la peccola piaduta e praticando la parola di Dio è commovente vedere questo pastore che potremmo definire in uscita sempre fuori alla ricerca di tutto e in particolare dei più duri di cuore che cercava di ammorbidire con la forza della carità dell'unità della povertà fino al punto di supplicare in ginocchio anche i più cattivi Pai Brocero è stato un pastore in grado di attraversare il fiume sulla sua mula per portare a tutti la gioia dell'incontro con il Signore soprattutto agli ammalati e ai sofferenzi i malati e i poveri erano per lui figli privilegi non aveva paura di essere uno strumento anche privilegi che comportava non solo con la parola i sacramenti ma anche cercando di allineare le ferite del loro corpo egli ha vissuto la gioia del ministero sacerdotale offrendo la propria vita per le alti e moltiplici attività pastorali in questo senso è un prete in uscita e come ha chiamato il Santo Padre un pioniere nell'uscire verso le periferie geografiche ed esistenziali per portare a tutti l'amore e la misericordia di Dio non rimase in un giustizio parrocchiale si lavorò sulla mula e finì con la malattia di lebra a porta ad uscire e cercare la gente come un prete di strada un calicero della ferie è questo che Gesù vuole oggi di tutti noi il secolo inizionale calicero della carne un terzo punto il sacerdotio di Brocero un'esfira per l'oggi la sua azione pastorale rivela che dietro la pianificazione dell'attività era un vero e proprio viaggio espiritual se gli esercizi erano il punto di partenza lui gli aiuti anche in una opera di attenza catechese e così riuscì a formare molti credenti e per usare un linguaggio a noi vicino di reti operatori pastorali e collaboratori dell'opera di apostolato di annuncio e di catechesi nella memoria pastorale di José Gabriel inoltre si possono annovenare tanti martes debuti con i fratelli cioè tanti momenti di condivisione con i suoi amici e compagni con nazionali dell'esquesta terra una condivisione del cuore tipica della terra argentina che Procero non ha mancato di fare neanche con il lebroso che probabilmente gli ha poi trasmesso la malattia in queste riunioni come nelle catechesi il suo linguaggio era semplice ma profondo di chi è preparato di sannunciare la verità del Vangelo e a quel tempo Procero ha vissuto ciò che oggi il Papa Francesco ci dice in Evangelio se si vuole adattarsi al linguaggio degli altri per poter arrivare ad essi con la parola si deve ascoltare molto bisogna condividere la vita della gente e prestargli volontaria e attenzione bisogna ricorrere a immagini di vita quotidiana trasformandola in parole per esplicare il mistero di Dio in questo modo Procero ha aiutato molte persone a scoprire che Dio si rivela nel quotidiano ogni giorno e così rivolge anche a noi una vera sfida pastorale trovare nuove vie per comunicare il mistero di Dio nel quotidiano mentre viviamo un tempo di pluralismo culturale perché Egli raggiungeva davvero il cuore dell'uomo l'azione pastorale di Procero si è basata su un ascolto attento della realtà Egli sapeva affermarsi in atteggiamento contemplativo di fronte al mistero di Dio rivelato nel suo popolo una contemplazione che si è fatta discernimento culturale che è discernimento pastorale e lo ha portato a scoprire le esigenze della sua gente e a notare per ottenere ciò che Egli ha meditato per la propria dignità non c'era posizione nel suo ministero tra annuncio del Vangelo e promozione umana ma tutto Egli sapeva integrare in una sintesi evangelica non si è risparmiato neanche nel lavoro concreto manuale aperto le strade insieme agli operai ha lottato per gli acquedotti se va tutto per le scuole i centri di educazione ha insistito per l'arrivo della ferrovia in questa regione abbandonata della politica Il prete Procero certamente è che il timone della conversione di persone e rimorre a tutti che Dio non si stanca mai di perdonare ogni riconoscimento in questo sacerdote santo un prete che non si stancava mai di cercare come il buon pastore la pecora perduta con la fermezza e la tenerezza di un padre di fronte alle critiche che gli facevano quando si avvicinava alle persone che avevano cattivi comportamenti rispondeva un po' pluscamente la colpa è del Signore che agito nello stesso modo che si firmò e si fermò a casa dei peccatori per portare il regno di Dio inoltre diceva che il sacerdote che non prova compassione per i peccatori è un sacerdote mediocre se non porto nel cuore la carità non sono di meno un cristiano il padre rocciero fa prodigi e dove e lui la gente non pensa ad altro che alla vita eterna e a mettere in pratica le buone opere del regno di Dio nonostante la povertà che regna da più parti in questi luoghi vengono raccolti molti soldi per costruire chiesa e fare una casa per l'esercizio culturale non era semplice una trasformazione morale ma una trasformazione dell'uomo interiore secondo la virtù teologale la sua facilità di stabilire amicizia ha potuto sviluppare rapporti di fraternità sacerdotale con i suoi cobratelli nel rapporto con il vice parloci e con il vesco che gli affidava sono stati molti molto molto buoni è stato un formatore che ha saputo accogliere e accompagnare gli altri sacerdoti e possiamo dire che è veramente un esempio di formazione permanente per i presidiosi tutta questa vitalità ministeriale e forza fattoriale sono soltanto alcuni tratti di una donazione generosa che Rociero pensava di poter avere per tutta la vita in realtà non è arrivato alla fine della sua vita danopando come aveva pensato ma morì in messo alle sofferenze a causa della lebra contrata come martire della carità così lei affermò che Dio nostro Signore è colui che vivifica e mortifica e dà energie fisiche e morale e che la toglie nella sofferenza accogli con favore l'opportunità di una vita passiva offerta come preghiera per gli uomini del passato e del presente di coloro che verranno fino alla fine del mondo questo buon fattore configurando la sua vita è quella di Cristo amato e amato fino alla fine una breve conclusione e sono veramente felice di condividere con molti sacerdoti provenienti di diversi paesi e questo modello di sacerdosio ministeriale di spiritualità diocesana di santità che si identifica apertamente con la sensibilità delle nuove generazioni di sacerdoti e futuri sacerdoti scusatemi però io sempre parlo dei sacerdoti tutti vogliamo venire i sacerdoti però della missione che il Signore ci ha fidato bellissima l'anno della conoscenza del clero abbiamo per prima volta tutta la bellezza e l'avventura e le storie che non sono così belle di tutto il percorso sacerdotale fin dall'attore vocazionale la formazione iniziale dei seminari e tutta la formazione permanente e pure le dispense sacerdotale mi è meraviglioso che avete contatto con voi giovani sacerdoti delle comunità sacerdotali dei pontifici collegi dove vivete la vostra formazione permanente questo scoperto con queste fisiche che facciamo a tanti collegi ho scoperto con gioia che siete una generazione di sintesi che lontani dalle lotte ideologiche del passato siete più pronti e sensibili a vivere la sintesi e l'integrazione risulta dal prete rocena vita di intimità con dio e rapporto permanente con gli altri vangelo e promozione umana obbedienza e creatività tradizione e novità religione popolare e teologia radicamento nella propria cultura e apertura alla universalità insomma i due amori molto di Dio e molto dell'uomo in questa una sintesi preziosa che ama Dio e vive nell'esprito orante diventa prossimo dell'umanità e vive la compassione evangelica verso le altre in tal modo il prete non è un uomo separato del mondo ma un uomo che con gli occhi e il cuore elevati verso Dio non teme di spostarsi le mani al servizio dei fratelli soprattutto dei più poveri lasciamosi sfidare nella testimonianza di questo santo pastore cerchiamo di chiederci che cosa mostriamo con il nostro modo di vivere il popolo di Dio ha bisogno e prega per maggiori e migliori sacerdoti nella pastorale vocazionale e la formazione permanente nulla nulla sostituisce la testimonianza di una vita sacerdotale vissuta con gioia impegno onestà sincerità chiediamo la grazia di renovare il nostro ministero per la ordinazione estesa e rinnoviamo questo ogni giorno probabilmente si può dire molto di più e la mia sensazione cari fratelli e sorella è di lasciarvi con tante cose non dette ma come sappiamo noi ci troviamo sempre davanti a un mistero inefabile Memo lo ha detto qua Memo lo ha detto inefabile che non si lascia catturare delle parole ho iniziato ho iniziato menzionando la doppia via che ci indica un santo la vocazione e l'esperanza concludo ringraziando il Signore per il dono di José Gabriel di Rosario e il nostro cura di arte della America la cui testimonianza si sfida a vivere fedelmente il ministero consegnandoci compassione al servizio del regno noi celebriamo e celebriamo nella nostra vita sacerdotale cristiana perché nel cuore di questo santo farroco sono cresciuti insieme due amori quello per Dio e quello per il popolo grazie grazie mille a tutti grazie a tutti